Il prezzo del gas aumenta perché Putin vuole che aumenti. La decisione dei russi di chiudere il Nord Stream, presa fra ieri e oggi, è alla base del nuovo record del prezzo del gas. I russi hanno chiuso Nord Stream in risposta alla decisione della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, di dirsi a favore della proposta italiana e francese di stabilire un tetto al prezzo del gas in tutta l'Unione Europea. La Russia non vuole il tetto al gas perché il tetto al gas calmiera i prezzi e sostanzialmente impedisce alla Russia di ricattare l'Europa. Ma perché va così lenta l'Europa, Maurizio? Da qui a quando il 9 settembre ci sarà, l'Europa si riunisce il 9 settembre nel Consiglio straordinario per decidere il tetto sul gas. Il tetto sul gas, che è una proposta italiana e francese, che Draghi ha rilanciato nelle ultime settimane ma che lui stesso aveva varato nei mesi scorsi d'accordo con Macron, deve essere applicata nonostante l'opposizione tedesca e olandese, sappiamo che la Germania ha fatto marcia indietro, resta l'opposizione olandese, ci sarà una battaglia a Bruxelles il 9 settembre, ma io credo che tutti i paesi contro l'Olanda, alla fine l'Olanda accetterà. Allora Maurizio, come sempre sei stato molto chiaro e molto preciso. La mia sensazione è che c'è una lentezza da parte dell'Europa, una faraggiosità, anche per colpa di alcuni paesi, come tu hai benissimo detto, e il problema è che questa roba qui dovrebbe avvenire il 10 settembre mattina, non so come dire, cioè non c'è più tempo. Maurizio? No, è assolutamente così, è una corsa contro il tempo, ma dobbiamo essere consapevoli che quanto sta avvenendo nelle nostre case e nelle nostre aziende, come giustamente prima Crosetto e la signora di Firenze stava dicendo, è un risultato della guerra in Ucraina. Putin, per vincere la guerra in Ucraina, vuole che l'Europa abbandoni l'Ucraina, per spingere i paesi europei ad abbandonare l'Ucraina, alza il prezzo del gas. Si ricatta. Allora, ovviamente...